Magenta ma anche a Biategrasso e Gaggiano questi punti di raccolta principali che poi convergeranno al centro islamico di via Bachelet a Magenta. Tutti i comuni del Magentino e dell'Abiatense si uniscono nella raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità da inviare alle popolazioni colpite dal recente terremoto in Siria e in Turchia. In particolare i collegamenti delle associazioni del territorio con la Siria hanno spinto per portare gli aiuti a questo paese tramite una catena che alla fine del mese di marzo partirà con una spedizione unica di tutte le associazioni di Milano e provincia. Noi stiamo raccogliendo i prodotti alimentari e non per la Siria per chi è in difficoltà a causa della crisi insieme a diverse associazioni che sono impegnate nel sociale a partire dalla comunità pastorale, la comunità musulmana, l'associazione Ama, l'associazione Moschea Abu Bakr, l'associazione Alif Badi e Biate Grazzo, la San Vincenzo, la Caritas, insomma diverse associazioni impegnate nel sociale. Come potete guardare alle mie spalle abbiamo raccolto diversi tipi di prodotti alimentari che poi si vedranno anche nella locandina, stiamo raccogliendo anche le coperte tutte nuove, stiamo raccogliendo le scarpe, attenzione la raccolta va avanti per due settimane, il punto di raccolta è magenta in via Bachelet al numero 12, l'orario di apertura è da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, sabato e domenica invece siamo aperti tutto il giorno. Come spiega Muni Bashfak c'è anche chi ha preferito donare direttamente dei contanti da utilizzare per l'acquisto dei beni più necessari, mentre una questione particolare riguarda le coperte, queste infatti devono essere ancora nuove e sigillate. Sì, ci sono diverse persone che volevano anche donare perché non hanno tempo insomma andare a fare la spesa, a venire qui quindi ci hanno donato diciamo in contanti dei soldi e che poi la nostra associazione andrà a comprare diciamo del cibo, la pasta piuttosto che la farina e altri prodotti. Fra due settimane pensiamo di fare una specie di evento qui proprio nel nostro centro coinvolgendo la comunità pastorale e tutte le associazioni che hanno contribuito a raccogliere e poi arriverà l'associazione per Siria di Milano che ha l'accesso in Siria appunto che porterà via tutto il materiale con il container insomma. Grazie a tutti.